Buongiorno a tutti. Benvenuti qui nel Salone Piazza della Fondazione Civiltà Bresciana. Oggi inauguriamo un'iniziativa culturale che si iscrive nelle iniziative di Brescia Vergno, Capitale della Cultura 2023 e di cui come Fondazione Civiltà Bresciana e come Archivio Bergamasco siamo molto orgogliosi ma poi per l'Archivio Bergamasco parlerà il suo Presidente. Siamo davvero molto orgogliosi perché è un'iniziativa unica in qualche modo nel suo genere, nel senso che oggi inizia un ciclo di ben 25 conferenze che si terranno con una cadenza quindicenale alternativamente a Brescia Vergamo e il cui obiettivo è di approfondire, di studiare, di illustrare le molte connessioni culturali, istituzionali, economiche, le molte influenze che ci sono state fra Brescia e Bergamo e come le due realtà hanno saputo scambiarsi persone, esperienze, culture nel corso dei secoli. Due realtà che come sappiamo sono sempre state contemporaneamente in competizione e in collaborazione e credo che questo lungo ciclo di conferenze che inizia adesso nell'ottobre del 2022 e finirà nel dicembre del 2023 riusciranno a metterlo in evidenza. Un'altra delle originalità di questa iniziativa è che inizia con un concerto, con un concerto d'organo che si terrà poi nella chiesa di San Carlo in via Moretto e si chiuderà a Bergamo con un concerto jazz quindi anche con una tematica, poi magari ce lo spiega meglio il Presidente. A me è stato descritto così e quindi io lo riferisco in questi termini. Io da Presidente della Fondazione Civile da Bresciana in questo saluto introduttivo voglio limitarmi ai ringraziamenti che sono ringraziamenti davvero sentiti. La Fondazione Civile da Bresciana vive grazie alla passione e all'impegno spontaneo e disinteressato di tanti amici, di tante persone legate a Don Antonio ma in generale interessate a questi temi e a cui anche in questo caso dobbiamo uno speciale ringraziamento per l'impegno che hanno messo nell'organizzazione di questo ciclo. A partire da Michele Busi che ha animato e intessuto i rapporti con l'archivio bergamasco a cui dobbiamo il merito di questa iniziativa dal nostro punto di vista a seguire con il comitato scientifico perché il nostro comitato scientifico diverse personalità del nostro comitato scientifico otterranno relazioni specifiche su questo argomento a seguire con la nostra preziosissima organizzazione amministrativa noi magari la parte meno visibile della Fondazione Civile da Bresciana all'esterno ma senza il lavoro oscuro ma prezioso e competente c'è qualche problema tecnico dei nostri amministrativi che oltretutto garantiscono anche il collegamento la proiezione o il streaming di queste conferenze e poi la conservazione di questo materiale per poter essere poi consultato anche successivamente. Ringrazio anche qua in modo non formale l'archivio bergamasco che è un'istituzione credo abbastanza fine alla nostra come finalità e come esperienza e con la quale mi auguro che questo ciclo di conferenze possa rappresentare l'inizio di una collaborazione di lungo periodo visto che condividiamo obiettivi, finalità, motivazioni, etiche e forse anche difficoltà che come tutte le istituzioni culturali incontriamo nella nostra attività e poi abbiamo anche alcuni sponsor che credo sia doveroso ringraziare i due comuni, il comune di Brescia e il comune di Bergamo che appunto ci hanno sostenuto e patrocinato le due province, la provincia di Brescia e la provincia di Bergamo lasciatemi cercare, eccolo qua, scusate l'elenco per non dimenticare nessuno la fondazione IAR, istituzione agraria e aggrupata la fondazione SM, la fondazione UBI, Banca Popolare di Bergamo e la fondazione mia, fondazione Congregazione Misericordia Maggiore di Bergamo e poi infine la fondazione Casa di Dio il concerto di stasera si terrà proprio in una chiesa di proprietà della fondazione Casa di Dio Oggi iniziamo con un incontro sugli Antegnati che sappiamo sono stati dei costruttori bresciani che però hanno lavorato molto più di alcune decine di esempi di organi ci sono anche nella Bergamasca e ce ne parlerà il professor Giusuè Berbenni che poi prenderà la parola e al termine della conferenza ci sposteremo appunto nella chiesa di San Carlo per ascoltare Luigi Panzeri che si esibirà in questo concerto d'ordino per cui davvero grazie per questa vostra presenza grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo ciclo di conferenze e lascerei la parola al Presidente dell'Archivio Bergamasco per i suoi saluti Grazie, anch'io porgo un cordiale saluto a tutti gli intervenuti e vi auguro una buona serata speriamo che questo piccolo evento, il più grande evento del ciclo di conferenze sia un inizio buono, sia un buon inizio per la nostra serie accennavo appunto a affinità e contrasti tra le due città ecco, io vorrei partire in questo brevissimo saluto perché non voglio togliere tempo all'amico Berbenni proprio dall'immagine che abbiamo scelto l'immagine del pieghevole ve la mostro no, non c'è volevo mostrarvela in tutta la completezza ma non l'ho messa è la colonna Camozzi è la colonna Camozzi che è conservata nell'atrio della Biblioteca Civica di Bergamo la Biblioteca Civica Angelo Mai ed è, appunto si chiama l'omaggio è l'omaggio della città di Brescia alla città di Bergamo in ricordo dell'eroismo della colonna Camozzi che nella notte tra il 31 marzo e il primo aprile 1849 corso in soccorso all'agonizzante Brescia che ormai stava per soccombere appunto sotto l'esercito austriaco di quell'eroismo erano 800 i volontari e furono poi fermati alla sconfine con Brescia la periferia di Brescia 35 morirono subito e 11 furono fucilati il giorno dopo e quindi già in epoca risorgimentale comunque c'era questa alleanza l'alleanza tra Bergamo e Brescia che aveva superato la precedente tensione del XII secolo chiaramente tutti ricorderete la battaglia di Rudeliano chiamata anche la battaglia della malamorte del 7 luglio del 1191 dove appunto Bresciani e Bergamaschi per ragioni di confine, di possesso dei confini se le erano date di santa ragione oggi noi non abbiamo nessun nemico comune per fortuna, siamo fortunati anzi la nostra collaborazione non è contro qualcuno ma è per qualcuno quindi la nostra collaborazione è ciò che abbiamo creato appunto in un anno di lavoro anche io ringrazio il professor Busi ringrazio il dottor Bravi qui presente con cui appunto abbiamo creato un piccolo comitato chiaramente supportato dalle rispettive associazioni e insomma tra consigli dell'uno e dell'altro siamo riusciti a creare così questa serie che intende valorizzare la conoscenza di questo ricco patrimonio che la storia ci ha consegnato la storia di Brescia e la storia di Bergamo e come diceva il Presidente l'obiettivo è uno solo far emergere le reciprocità le reciprocità di idee, culture, sentimenti che ha sempre, anche linguistiche in fondo che ha sempre contraddistinto nel corso del tempo queste due realtà appunto 24 conferenze due concerti uno all'inizio e uno alla fine il primo classico proprio perché l'idea era quella di partire dal vostro antenati che non mi dice Verbendi è il giuvello del mondo poi vabbè ci sono stati problemi e quindi non è stato possibile utilizzarlo e poi concluderemo con un concerto jazz è un musicista bergamasco di una certa notorietà anche a livello nazionale Marco Gotti che presenterà un'opera originale sul viaggio sui viaggi che lui ha fatto e li ha tradotti in musica in musica jazz cosa devo dire ancora che altro il pomeriggio è lungo piacevolmente lungo mi auguro e quindi non voglio assolutamente togliere spazio a Giosuè Berbegni e quindi conseguenza per rimandare tutto perché proprio le sei e mezza ci trasferiremo a San Carlo e per goderci questo concerto del maestro Luigi Franzetti anch'io mi risorcio ai ringraziamenti quindi ringrazio in particolare l'associazione Mici della Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia e la fondazione Casa di Dio che ha prontamente e gentilmente concesso l'utilizzo dell'organo della Chiesa di San Carlo oltre ovviamente a tutti i ringraziamenti che su cui non mi che non duplico perché sarebbe inutile tutti gli sponsor i finanziatori gli amici che ci hanno sostenuto appunto in questo in questo passaggio per cui niente grazie ancora della vostra presenza e lascio la parola al professor Berberi ecco io faccio la conferenza in piedi perché il mio collaboratore è impegnato per le slide allora puoi passare alla numero due questo tema è un tema abbastanza impegnativo vi dico già il sunto della mia relazione il valore storico degli antenati una realtà che viene molto da lontano l'origine il territorio l'organo ideale il concetto di perfezione l'arte organica del 1608 l'arte antennata la regola dell'accordare gli organi le idee la formazione del costruttore d'organi l'organizzazione di fabbrica il concetto di marketing l'incidenza sui colleghi la stima dei musicisti gli antennati e Bergamo il parallelismo con i serassi le conclusioni avete capito che la mia relazione abbraccia soprattutto la mentalità incomincio con il valore storico degli antenati numero 2 non c'è come la musica che unisce le popolazioni nei lunghi tempi della storia nell'ambito Bergamo Brescia capitale della cultura non c'è migliore argomento che ricordare ciò che ha unito le due città in una disciplina assai particolare e per ben quattro secoli l'organaria dei bresciani antenati dal 1480 al 1650 e quella dei bergamaschi serassi dal 1720 al 1895 loro allievi ideali se le due città sono famose nel mondo della cultura organaria nazionale e internazionale è grazie all'eccellenza che le due dinastie hanno saputo creare ambe due attive per circa 170 anni hanno il grandissimo merito di avere formato la tipologia guida dell'organo italiano gli antenati nel tipo rinascimentale e i serassi in quello 7-8 centesco risorgimentale pertanto il tema antenati costruttori d'organi è di indubbio rilievo per la storia della società della cultura e delle istituzioni che civiltà bresciana e archivio bergamasco hanno voluto dedicare la nostra comunicazione alla luce delle linee emerse dalla storiografia di questi ultimi decenni sono nate valutazioni raffronti e ridimensionamenti utili da una parte a togliere la patina ageografica che li contraddistingueva e dall'altra a mantenere la loro unicità e grandezza una realtà che viene da molto lontano l'organo è frutto millenario di una complessa attività di meccanica matematica geometria musica l'invenzione risale al terzo secolo avanti Cristo da un ingegnere idraulico l'elenistico tesibio d'Alessandria come vedete dalla foto dell'immagine è un disegno che dice esattamente come è nato da allora al 1400 sono trascorsi ben 19 secoli dove tale strumento è stato protagonista delle vicende storiche non solo musicali ma sociali politiche diplomatiche tra imperatori nonché religiose in quanto fatto proprio dalla cristianità occidentale come strumento privilegiato della lode a Dio l'origine tutto parte dal basso medioevo gli antenati provengono da Antegnate ora paese della bassa bergamasca in passato nella giurisdizione di Milano e di Cremona nel 1431 Giovanni di Antegnate giurista tra i più influenti membri del consiglio municipale di Brescia aveva ottenuto la cittadinanza il figlio Bartolomeo è colui che per primo si dedica con successo all'attività di costruzione d'organi l'apprendimento è quasi certamente nella bottega del tedesco Bernardino de Alemania veneziano di adozione che nel 1461 costruì l'organo di Santa Maria Assunta del Doro nei documenti frequentemente è chiamato Bartolomeo de Lumezzanes Lumezzane nella Val Trompia dove da sempre esistono officine per lavorare il ferro e l'ottone è assai probabile che Bartolomeo avesse qui un'officina per fabbricare le canne degli organi egli si forma con tre prospettive di mercato in quanto a Brescia mancavano vari organari autottoni quelli chiamati per importanti lavori erano forestieri per di più d'oltre Alpe di merito perché l'organaria richiedeva in dubbia abilità manuale di cui il nostro era dotato in fine di committenza in quanto c'era una grande diffusione dell'organo fortemente voluto da comunità civile e religiose con tutte le prerogative a loro propie Bartolomeo colloca organi nelle catedrali di Milano Como Cremona Mantova Brescia Bergamo nella città di Bergamo è attivo dal 1486 nella catedrale Alessandrina nel 1496 98 costruisce l'organo per la cappella civica basilica di Santa Maria Maggiore ma l'opera gli viene protestata con l'obbligo della rimozione e della restituzione del denaro verso il 1501 muore probabilmente di crepacuore ad Albino paese a una decina di chilometri capoluogo orobico il territorio il regesto degli organi costruiti dagli Antegnati fino al 1606-17 cioè dal tempo che io Costanzo Antegnati ne ho avuto il maneggio e cura sono 130 collocati in diversi stati Repubblica di Venezia Stato di Milano Ducato di Savoia Marchesato di Mantua nelle cattedrali e basiliche oltre Brescia Bergamo Mantua Como Crema Milano Pavia Lodi Parma Cremona Verona Vicenza Padova e Venezia nonché in numerose comunità monastiche e in paesi decentrati tra i numerosi figli di Bartolomeo solo tre continuarono l'attività Giovanni Battista a Brescia Giovanni Giacomo a Milano e Giovanni Francesco costruttore di cebali e spinette strumenti a corde dotati di tastiera benché nella dinastia si continuano 19 figure dedite a questa occupazione ne emergono solo tre Grazie a Dio di Giovanni Battista con il figlio Costanzo e il citato Giovanni Giacomo di Milano la differenza e residenza consentì loro di essere presenti in zone diverse ed esteso dell'Italia settentrionale l'origine ideale la novità degli antegnati non è stata l'innovazione ma l'ottimizzazione cioè questi hanno realizzato il modello d'organo detto perfetto grazie ad una chiara consapevolezza di idee di pensiero in effetti Giovanni Giacomo grazie a Dio e Costanzo non hanno inventato nulla di prodigioso ma si impegnano e concentrano in una ricerca rigorosa e selezionata dalle sonorità nell'intento di raggiungere naturalezza gusto perfezione ed equilibrio obiettivi da loro pienamente conseguiti lo confermano importanti pareri storici del tempo e successivi mi siedo così vedo meglio l'organista e il teorico musicale Giovanni Maria Lanfranco nel 1533 scriveva che Giovanni Giacomo Antegnati è autore di organi così ben lavorati che non da mano d'uomo ma di natura creati paiono con la sua cordatura così fatta che ciascuna ci conferenza delle sue canne intera rotonda immaculata resta l'autorevole organaro Giuseppe Serassi annotava nello scritto in sugli organi lettere del 1816 che grazie a Dio fu il più esatto e perfetto in quest'arte fra i molti di questa illustre famiglia la solidità la dolcezza delle canne e la maestria delle medesime erano inimitabili vediamo il concetto di perfezione vedete che ho fatto subito un'immagine di Lorenzo Lotto il concetto di perfezione che si traduce concretamente nell'eccellenza di costruzione deriva dal pensiero rinascimentale di origine aristotelica nell'arte pittorica come notiamo due dipinti del contemporaneo Lorenzo Lotto questo è molto evidente caratteristica di questo è che un'opera pertanto l'organo è perfetta solamente se è portata a compimento in tutte le sue parti se è senza difetti se non può essere migliorata l'organo antennati detto anche classico rientra in questo giudizio tanto che veniva collaudato proprio su questi tre parametri inoltre a livello pratico il modello d'organo da loro creato si contraddistingue per le tre classiche caratteristiche delle opere meccaniche raccomandate da Vitruvio che siano cioè perfette nella lavorazione durature nel tempo facili all'uso caratteristiche che traspaiono nel trattato l'arte organica di Costanzo da noi verificati in restauri nonché esplicitamente fatte proprio dei grandi serassi l'arte organica del 1608 il concetto della perfezione lo si coglie bene nel citato scritto l'arte organica di Costanzo pubblicato nel 1608 sono solo otto fogli recto e verso formato a quattro ma la sua importanza è fondamentale nella storia musicale dell'organo sotto forma di dialogo tra padre e figlio da una celebrazione dell'organo Antegnati con allegato il citato regesto di ben 130 organi da loro collocati se da una parte è uno scambio e confronto di opinioni di formazioni dall'altra è una chiara visione della mentalità organaria rinascimentale lombarda e in particolare dell'uso dell'organo nella liturgia infatti si insegna per via di avvertimenti il galateo dell'organista ovvero il vero modo di suonare e registrare l'organo cioè come vanno suonati gli organi da lui stesso costruiti o realizzati dal padre o dagli avi e da lui affidati in maneggio e cura verrebbe da dire ma è lo scritto letterario che rende grandi gli Antegnati o sono i loro strumenti crediamo che la loro fama non sarebbe stata valorata senza la concretezza delle loro opere dai contemporanei e storici decantati come perfette noi moderni possiamo confermarlo anche se ci rimangono pochi reperti solo alcuni pressoché originali mentre altri recuperati con restauri e ricostruzioni l'arte Antegnata Costanzo oltre ad essere eccellente organaro era organista del Duomo di Brescia discepolo del Mantovano Girolamo Cavazzoni nonché compositore dotto ed elegante colui di fatto si chiude la grande epopea Antegnatiana l'arte organica è indubbiamente una celebrazione del lavoro della famiglia degli avi tanto che Costanzo considera l'arte di costruire gli organi non solo come arte liberale nobilissima ed antichissima nel passato considerata invece arte servile ma della propria famiglia tanto di chiamarla l'arte Antegnata ben inteso sottolinea senza arroganza ed ambizione alcuna consapevole della superiorità della propria opera rispetto a quella dei colleghi seppur di valore tuttavia non ci rivela i segreti del mestiere a parte l'accordatura delle canne la regola è che per i segreti del mestiere non si svelano cose la regola dell'accordare gli organi nel citato scritto c'è una preoccupazione evidente sapere come accordare le centinaia di canne che formano l'organo in genere gli strumenti a tastiera questa regola dell'accordare gli organi scritta con un dettaglio probabilmente era per mettere ordine della diffusa confusione d'accordatura ed assumono un'importanza fondamentale nella storia della musica del rinascimento alcune sue parole ci danno un'idea le terze maggiori si tirano a tutta quella perfezione che si può mentre le quinte bisogna che alquanto siano scarse che appena se ne possa accorgere questo ci testimonia dell'adozione del temperamento di un quarto di comma detto anche in tono medio misotonico adozione della ricercata ufonia della terza maggiore pura come da prova anche l'analisi della musica per tastiera le idee gli antegnati operavano secondo idee ben precise dotate del doppio carattere intellettivo e attivo capaci di essere da stimolo per generare azioni tali da influire sulla progettazione e realizzazione nonché sulla valutazione dei risultati l'idea di base è che più era alta la capacità dell'organo di esprime sonorità perfette e molteplici e più dava smalto al culto divino e alla musica dunque se aveva grande musica si erano strumenti di alta qualità erano convinzioni che riguardavano la lavorazione accurata la solidità la prontezza di suono delle singole canne sostenuta dall'attuazione delle proporzioni matematiche tra larghezza e altezza della bocca rispetto al diametro della canna inoltre la pressione costante e relativamente bassa dell'aria prodotta dai mantici che consentiva un suono naturale pertanto nobile la perfetta accordatura in tono medio secondo la sensibilità dell'epoca la varietà dei colori timbrici l'equilibrio dell'insieme e la facilità all'utilizzo della tastiera e dei comandi dei registri in tutto questo traspaiono le tre caratteristiche vitruviane sul lato dell'esecuzione musicale e sul comportamento degli organisti all'organo viene raccomandato come accennato un vero e proprio galateo questo esprime una saggezza che rende tali raccomandazioni sempre valide al di là del gusto dell'epoca tra queste si evidenziano come adeguare l'esecuzione delle reforme gregoriane in dodici modi di varietà di combinazioni dei registri ovvero colori timbrici impiegati come ottenere la purezza del suono del ripieno formato dei soli registri della famiglia di ripieno sulla base di un unico principale anche se l'organo ne possedesse più di uno lasciando gli altri registri serati perché il ripieno riesce più vivace e spiritoso e più gentile armonia si sente infine come mantenere lo strumento di così alta qualità raccomandando di fuggire dai cosiddetti organari spacca organi la formazione del costruttore d'organi lo scritto sottintende un ulteriore aspetto totalmente nuovo nella cultura organaria il costruttore d'organi nel medioevo tale professione era ritenuta più meccanica che liberale praticate a volta da gente molto bassa e quasi mendica Costanzo ne ribalta la figura e sull'esempio dei propri avi di sé propone chiaramente che il costruttore d'organi non deve stare al livello di semplice facitori di arte servile come è la meccanica ma deve salire e considerare l'arte organaria come arte nobile in quanto comprende l'aritmetica la geometria la musica che con l'astronomia formano il quadrivio formativo dell'arte in sé è una visione antropocentrica tipica dell'umanesimo secondo cui occorre che l'uomo sia artefice della propria vita che dia il senso della dimensione storica in particolare del ruolo classico che rinnovi il gusto estetico che sia cosciente del possesso di tutte le facoltà poste dalla natura che esalti l'armonia e la bellezza che abbia lo spirito critico è l'uomo ideale per costruire un'opera perfetta a tal fine raccomanda la formazione spirituale morale e civile del costruttore d'organi perché tutta l'opera è per lodare e glorificare il Dio infine Costanzo ricorda dalla propria esperienza che l'arte di eseguire e comporre musica è necessaria molto alla professione mia di fabbricare e suonare gli organi volendo ciò fare come si deve l'organizzazione di fabbrica l'arte di costruire gli organi presuppone molte discipline oltre che la meccanica la fonderia la fonderia la matematica la geometria la musica inizialmente tale attività di costruzione d'organi e secondo modalità medievali ci riferiscono che Bartolomeo e il figlio Gian Giacomo così procedevano l'organaro si recava sul luogo della committenza e questa forniva tutti i materiali necessari grazie all'opera metalli leni pelli colla chiodi e altro dalla metà del cinquecento l'attività antenati è così intensa che le loro officine sono strutturate secondo settori specializzati l'organaro e i suoi operai dovevano creare i lavori nella più stretta collaborazione e con la costante coscienza dell'opera complessiva il concetto di marketing accanto a questa nuova concezione della fabbricazione in comparti specializzati c'è l'esigenza di comunicare il pensiero all'operato non solo per far conoscere e acculturare ma per acquisire altri committenze l'intento di Costanzo è di fare un'intelligente operazione di moderno marketing con obiettivi competitivi e obiettivi relazionali allo scopo di creare un vantaggio concorrenziale sia di organo che di idee esecutiva musicale per fornire ai committenti parrocchie organisti comunità e municipalità un valore d'organo sempre migliore rispetto a quello dei colleghi concorrenti non si può parlare di concorrenza di costi perché l'opera d'arte non ha competizione l'incidenza sui colleghi altri organari coevi agli integnati erano più fantasiosi e innovativi stilisticamente divergenti dal rigorismo purista antennatiano sappiamo che non correva buon sangue tra gli organari pronti come sempre a farsi le scarpe gli uni con gli altri accanto agli antennati vediamo una serie di validi organari brisciani Giovanni Battista Facchetti molto attivo a Bergamo Bernardino Virchi Giulio Cesare Moroni Tommaso Megliarini Giovanni Battista e Stefano Angelini e benché non tutti siano usciti dalla bottega antennati sono propositivi di un modello d'organo non dissimile da quello antennati sia per estetica sonora che per tecnica costruttiva la stima la stima dei musicisti Costanzo sottolinea come la stima di celebri musicisti dell'epoca abbiano elogiato le opere a Dibale Padovano Claudio da Correggio Luzzasco Luzzaschi Francesco Stivori Giuseppe Ascanio Ottavo Variola Germano Pallavicino inoltre ricorda illustri nomi della musica che ebbero modo di suonare come organisti e apprezzare assai i loro organi nelle varie cattedrali di Milano Cremona Amato a Bergamo Comobrescia questi sono Giovanni Fiamengo Vincenzo Baraposco Claudio Merlo Fiorenzo Maschera gli antennati a Bergamo Bergamo è sempre stata esigente nella musica soprattutto negli organi gli antennati ne sono stati protagonisti durante tutta la loro lunga attività di 170 anni con numerosi allori e un'esperienza negativa gli antennati avevano una sorta di preferenza per i bergamaschi perché questi sapevano dare a loro grandi soddisfazioni tanta era la stima che i committenti non è tanta era la stima che non chiedevano nemmeno il collato esempio Sant'Agostino del 1607 lo deduciamo dei documenti della città della cappella civica di Santa Maria Maggiore e dà le descrizioni dettagliate di padre Donato Calvi efemeridi sacra profana di quanto dimemorabile sia successo in Bergamo opera del 1676 gli antennati considerano Bergamo la loro seconda patria non solo per la comunanza di mentalità ma per il numero di 44 organi collocati 16 a Bergamo 19 in provincia che per numero è seconda solo dopo Brescia di queste rimane solo l'organo del 1588 ad almeno San Salvatore chiesa di Santa Maria della Consolazione detta di San Nicola Costanzo ha costruito a Bergamo ben 24 strumenti inoltre deduciamo questo affetto verso Bergamo dall'operetta l'arte organica nell'immagine vedete che c'è il proprio Bergamo dove Costanzo ricorda le suore del monastero di Santa Grata in Bergamo Alta e Giovanni Cavaccio maestro del Duomo di Bergamo per i quali sono riportate le regole per l'utilizzo degli ordini dalla morte di due antenati in paesi bergamaschi nel 1501 Bartolomeo probabilmente ad Albino e nel 1650 di Giovanni Costanzo II ad almeno San Salvatore inoltre dei rapporti confidenziali con influenti personaggi bergamaschi il loro operare ha diffuso valori e gusti creando le condizioni per la nascita e lo sviluppo dell'arte organaria bergamasca 7-800 tra le più autorevoli della storia italiana ed europea lasciando nei bergamaschi decisamente pretenziosi profonde linee guida il parallelismo con i serassi gli antenati e i serassi hanno in comune ideali e caratteristiche costruttive i serassi dotati di una non comune capacità di pensiero sono stati coloro che hanno colto il messaggio degli antenati e l'hanno fatto proprio rimarcandone l'eccellenza Giuseppe II Serassi oltre a riportare un sutto dell'arte organica nella seconda lettera dello scritto sugli organi lettera del 1816 accerta i profondi e numerosi legami tra il tipo di organo praticato dai brisciani e quello seguito dai suoi ami nello specifico sono comuni la tecnica costruttiva del sommieravento la tipologia di numerazione delle canne la proporzione tra larghezza e altezza delle bocche rispetto al diametro delle canne ai due noni e a un quinto i ritornelli delle file di ripieno sui tasti si bemolli e mi bemolle l'intonazione basata su bassa pressione l'imbocatura dei piedi a piena aria la parsimonia o assezza di incisioni dettidenti o nei profili detti anime delle bocche e delle canne le bocche basse delle stesse canne interessante è sottolineare che tra gli antegnati e i serassi non c'è stato alcun contatto diretto nemmeno di tempo eppure i brisciani sono stati soli maestri dei berkamaschi sta di fatto che queste due dinastie hanno dato non solo splendide opere d'arte ma mentalità di riferimento per l'Italia intera conclusione gli antegnati sono l'eccellenza degli organi del rinascimento lombardo dal 1990 data dell'ultimo convegno ad oggi sono passati 32 anni che novità ci sono al di là degli ulteriori approfondimenti e delle attribuzioni e datazioni vi è una specifica metodologia di ricerca che abbraccia la parte del contorno della macchina organo gli intagli linei della mostra e delle balconate e le portelle dipinte di apertura e chiusura del prospetto opera di grandi pittori sono nate indagini specifiche sulle famiglie di intagliatori tra cui i celebri brisciani piantavigna e illustri pittori quali il moretto e il romanino d'origine pergamasca è opportuno fare una monografia della secolare dinastia se questo può servire ad unire i vari contributi ed a incentivare lo studio benvenga sui serassi è stato fatto vorrei concludere con l'immagine della città ideale che prima avete visto del rinascimento collegandola all'idea dell'organo ideale ovvero perfetto che i grandi antegnati hanno saputo realizzare e proporre grazie allora la mia relazione ha voluto soprattutto centrare il tema quello che non si legge su internet che non si leggono sui libri perché i libri sono fatti di notizie nozioni importanti però che danno il dia appunto di questa linea guida dell'eccellenza della perfezione vedete che non è solo l'organo che vedete qui appunto San Giuseppe ma ho fatto vedere qualche quadro di Lorenzo Lotto a lui colevo della città ideale di Lungo Battista Alberti cioè la mentalità era era quella per cui le tre caratteristiche di Aristotele diceva che la macchina o l'opera d'arte è perfetta quando ha le caratteristiche della bellezza della perfezione e che non ha bisogno di altro cosa che attualmente non è più comprensibile ma gli antenati anche se da allora adesso sono passati 4-5 secoli che cosa ci possono insegnare io direi la qualità dell'opera umana non è che adesso ci sono le cose fatte bene però anche perché sono cambiate le modalità di esecuzione intendi però l'idea che fatta una cosa la si faccia bene soprattutto quando costa parecchio noi siamo depositari perché non solo gli antenati ce l'hanno insegnato ma ci sono stati altri che le hanno seguiti io parlo da Bergamasco e i Serassi che poi diciamo questa linea guida è quella che ha poi dato l'input a tutta l'Italia perché gli organi che hanno unito l'Italia sapete che l'Italia prima dell'Unione era un visino tostato c'erano culture e situazioni diverse però tutto è partito da Brescia via Bergamo Bergamo Serassi Possi eccetera e tuttora continua però questa continuità che è una linea sotterranea molte volte non ci si pensa ci si pensa solo quando si mette la testa e si riesce a capire le novità le novità novità che però solo noi in questo caso non siamo degli epigoni ma siamo persone che in futuro ci daranno anche merito perché fino a cent'anni fa gli antenati erano sì bravi organari e basta adesso gli antenati non sono solo studiati in modo approfondito ma anche compresi e capiti in questa linea ecco c'è una signora che prima mi ha avvicinato del FAI che voleva dire due ecco due parole proprio per ecco venga signora per continuare la nostra Maria Luisa Maria Luisa buonasera grazie per avermi dato la parola posso alzare la voce mi si sente ecco si metta qui avrei parlato dalla mia ecco grazie mille sono Luisa Lazzari capogruppo FAI Semino Franciacorta ringrazio il relatore meraviglioso che mi ha aperto un mondo che io conoscevo appena solo per fama per sentito dire perché è un argomento cedeberrino ma che non avevo mai approfondito e prendo la parola per informarmi di quella cosa che è successa il 22 settembre qui in Castello in Castello c'è stata l'inaugurazione della via del soccorso aperta dopo tanti anni di chiusura perché Brescia ha vinto il bando con del luogo del cuore raggiungendo un numero incredibile di firme e avendo il contributo di intesa San Paolo per la via apertura e il restauro l'illuminazione di questa via del soccorso e voi dite che cosa c'entra c'entra questo che per l'inaugurazione è venuto il presidente del FAI Marco Magnifico e diranno naturalmente presenti le autorità sia del comune di Brescia sia della fondazione Brescia Musei Magnifico ha fatto i complimenti per la città per il castello per il recupero della via del soccorso e naturalmente tutti sapevano e sottolineavano quello che succederà l'anno prossimo per via di Brescia e Bergamo città della cultura e Magnifico ha detto ma perché non vi mettete d'accordo e in nome degli antenati fate qualcosa un festival una serie di concerti che uniscano Brescia e Bergamo passando attraverso i territori della provincia che sarebbe una bellissima cosa che unisce le due città e che valorizza queste opere meravigliose aperte al tutto il pubblico con la collaborazione di quelli che si vuole io ve lo propongo perché ho trovato un'idea bellissima soprattutto perché veniva da questo che è un milanese che ci sollecitava a valorizzare le nostre eccellenze mi piacerebbe che dopo questa bellissima conferenza ci si mettesse qualcuno a organizzare un festival tra Brescia Bergamo e provincia io sono a disposizione per quanto riguarda le chiese nella zona di Franciacorta e Semino grazie per avermi ascoltato grazie grazie dottoressa allora dopo ogni comunicazione faccio intervenire le osservazioni scusate mi permetto di intervenire solo per ringraziare il professor Verbelli da parte dell'associazione Amici della Scuola Diocesana che ci ha invitato prendo spunto dall'intervento della signora Delfai per dirle che su questo tema anche se l'abbiamo tenuto per un po' segreto perché non si poteva dire prima l'associazione Vecchia Bergamo che sempre organizza il festival internazionale a Bergamo l'associazione Amici del Carmine e l'associazione Amici della Scuola Diocesana hanno proprio ideato per l'anno prossimo quello che è stato detto e quindi è appena stato promosso questo progetto che è un progetto che tenderà a due diverse finalità una finalità cittadina ed una finalità provinciale l'aspetto cittadino saranno dei concerti che sono già programmati come date ma ora non ve li dico ancora perché non le ricordo perché non pensavo di doverlo dire ma visto che oggi è stato accennato il tema mi sembra bello anche dare una risposta a questa bellissima sollecitazione ci saranno quindi organisti sia stranieri che italiani che suoneranno lo stesso programma no lo stesso programma programmi simili poi non sempre sarà perfettamente lo stesso su organi che siano tra di loro affini come casa costruttrice o come epoca di Brescia e di Bergamo in due sere consecutive quindi lo stesso organista suonerà il venerdì e poi il sabato oppure il sabato e la domenica dipende dal calendario a Brescia a Bergamo prima e poi a Brescia e poi ci sarà un'altra invece iniziativa proprio per il discorso della provincia che ha un nome diciamo che piace al più perché è un po' un gioco di parole che si chiamerà pedaliter pedaliter perché questo richiama sia gli organisti lo sanno le parti di composizioni organistiche che hanno richiedono l'utilizzo del pedalo obbligato oppure parti solo per pedale hanno questo termine latino quindi pedaliter pedaliter vuol dire anche in latino a pedali cioè andando con i pedali e non solo per quanto riguarda l'organo ma Brescia e Bergamo sono unite da una pista ciclabile che attraversa le zone anche del lago di Iseo lì ci sono degli strumenti interessanti e quindi è stato pensato di sfruttare questa ciclovia che si fa pedali di domenica pomeriggio in modo tale da ascoltare degli organi interessanti su questo percorso che affideremo a dei giovani organisti che già si stanno sicuramente facendo conoscere sia bergamaschi che bresciani facendo uno scambio di questo tipo i bergamaschi suoneranno in terra bresciana e i bresciani in terra bergamasca quindi mi fa molto piacere che sia uscita quest'idea mi fa anche molto piacere di vedere che è stata pensata perché vuol dire che è una cosa spero intelligente non viene da me l'ho solo accolta e insieme ad altri studiata per cui è per noi una bella soddisfazione sapere che si realizzerà grazie grazie scusa Giosuè ho due domande allora il prefetto l'ex prefetto della libertà Cinca di Bergo il dottor Orazio bravo allora ho due domande la prima dipende dal fatto che purtroppo io non ho sentito bene gran parte del primo discorso solamente quando ho avvicinato questo microfono ho sentito bene la domanda è questa Mari l'hai già detto ci dicevi fuori abbiamo preso un appenitivo insieme che l'ordine di San Giuseppe è l'ordine più perfetto al mondo dell'età rinascimentale allora dire in breve il perché fai questa affermazione molto forte molto forte allora è un'affermazione perfetto nel senso rinascimentale il suono difatti il suono del ripieno non c'è un suono al mondo che riesca a superare il ripieno di quest'organo ma quest'organo non ha 4.000 cani ne ha 400 non di più qual era il segreto perché nessuno lo sa un po' come gli stradivari gli strumenti stradivari hanno dei suoni eccezionali ma nessuno riesce almeno con i computer i giapponesi riescono a capire qual è e di fatto solo Giuseppe II Serassi l'ha capito cioè sono imimitabili cioè queste opere che sono tra l'altro in un momento storico di pochi anni pochi decenni attenzione perché già Costanzo Antegnati nel 1607 non ha ancora preso Littus per cui lo rende inabile è morto nel 1624 però diciamo quando c'era suo padre grazie a Dio perché Giuseppe Serassi considera grazie a Dio il più grande degli Antegnati quando quando si mettono insieme e ha costruito questo organo probabilmente gli anni d'oro sono riusciti a fare qualcosa che non si ripete più tra l'altro vedete dall'immagine già questo prospetto è un prospetto che richiama la città la città ideale di Leon Battista Alberti oppure può richiamare le pale d'altare meravigliose di Lorenzo Lotto voi potreste dirne altre poi avete visto le portelle cioè diciamo il gusto che noi adesso stiamo riscoprendo e questo gusto era proprio in cose molto semplici che noi non capiamo più perché se noi non abbiamo gli organi di 3000 carne dove alla fine uno dice boh magari mangiano anche negli Stati Uniti di Popcorn e bevono le Coca-Cola e mentre ecco e quando arrivano gli stranieri da noi soprattutto io parlo dei Bergmi Serassi rimangono meravigliati ma meravigliati non tanto per l'eccentricità dello strumento ma per la purezza tant'è che uno studioso di diciamo della Scala Matteo Barmina che si è tutta divina comedia memoria e mi diceva ma io quando suono il principale non so dell'organo Serassi Giuseppe II che è quello che ha invitato meglio gli antenati ecco mi si apre un mondo misterioso tra il mistico e la nobilità ecco è questo che gli antenati ma dico in 170 anni solo in pochi anni sono riusciti a trasmetterci però questa questa diciamo sorgente sotterranea che si fa strada anche in salita ecco è stata mantenuta e noi la stiamo dicendo perché io sto dicendo le stesse cose allora l'organo di San Giuseppe che è decantato che ha il suono di ripieno più bello del mondo e di fatto io l'ho sentito nel YouTube e ho detto ma questo non sono eccezionale e deve essere restaurato il fatto che stasera non possa essere sentito abbiamo dovuto così fare le capriole per far sentire il concerto ecco è un invito ovviamente a restaurarlo perché è dal 1958 che lo strumento è stato ristrato ma soprattutto qui c'è l'organaro Chiminelli dieci rode in violoncello titolare alla scala e si è messo a fare l'organaro ecco è chiaro che il nostro il nostro mandato è quello innanzitutto di non solo io non dico di migliorare perché non esiste migliorare l'opera d'altri ma soprattutto di mantenere e valorizzare perché i danni più grandi che si fanno agli ordini sono fatti dagli esseri umani soprattutto dei presuntuosi organali che dicono adesso io faccio le cose che veramente dranno e quella volta che veramente e quando Costanzo Antegnatini nel 1608 lo dice chiaramente attenzione perché questi organi perfetti sono i più delicati e ci vogliono persone che non solo hanno capacità manuale ma hanno anche molta sensibilità musicale e questa non è trovata subito bisogna bisogna coltivarla e poi c'è chi naturalmente l'ha perduta in naturale grazie direi che forse durante il primo se è possibile ma queste meraviglie che ci ha rispettato sono conosciute a livello diciamo molto elevato allora hai fatto una domanda dopo allora i giapponesi finanzierebbero l'organo San Giuseppe perché diventa c'è qualcuno che ha detto io mi offro a ristorare correttamente quanto ci vuole per un organo così sta giù allo minimo 200 250 mila euro ma il problema è che la comunicazione di internet diciamo accelera questa conoscenza ma purtroppo molte volte questa conoscenza diventa troppo fluida ecco però direi che già il fatto che se ne parli capisco a livello popolare così direi che c'è consapevolezza se la consapevolezza bene dicono che ci pieghiamo 15 minuti per arrivare a cercare però se vogliamo dare un'occhiata ah andiamo in chiesa sicuramente se ci sono 15 minuti e dare un'occhiata e poi ci avviate grazie dell'ascolto grazie